... Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati. Al Crabb entra in liquidazione, sono 24 i lavoratori che non percepiscono stipendio da 8 mensilità e il debito della società aumenta di mese in mese, sforando i 700 mila euro. In un'agonia senza fine, i lavori già svolti non possono essere incassati perché il DURC non è regolare. Stessa drammatica situazione al Crive e al Cotir di Vasto, dove i 26 lavoratori hanno accumulato stipendi arretrati per 21 mensilità. Aspettavamo questa variazione come ci era stato promesso dall'assessore, ma pare che ci abbiano dimenticato. Siamo 8 mesi di stipendi arretrati, i debiti continuano ad accumularsi. Purtroppo stiamo nendo in liquidazione, quindi non possiamo partecipare a nessun bando, a nessun lavoro pubblico. Noi siamo ad oggi 21esima mensilità. Abbiamo sempre lavorato, abbiamo concluso, stiamo concludendo, abbiamo concluso tutti i PSR che ci sono stati assegnati e ora in questi giorni stiamo proprio chiudendo anche gli ultimi. Il Consiglio è stato dunque interrotto subito dopo l'inno di Mameli per un incontro con la delegazione degli istituti di ricerca. L'assessore Dino Pepe assicura che sarà data loro una risposta. Entro luglio noi siamo in grado di pagare altri stipendi sia al Cotir che al Crab con la copertura dei progetti in corso e poi stiamo verificando con l'assessorato al bilancio l'opportunità di intervenire attraverso una variazione. Con il collega Paolucci stiamo lavorando per portare entro l'estate una variazione di un milione di euro che ci possa consentire di sanare parte del debito arretrato. Altri punti all'ordine del giorno le attese norme in materia di riordino territoriale dei comuni e delle loro fusioni. La proroga del commissario straordinario dell'Arap e infine per l'ennesima volta l'elezione del garante dei detenuti. Resta in polposition la candidatura della radicale Rita Bernardini ma ancora una volta sarà molto difficile trovare in Consiglio la maggioranza qualificata. Forza Italia ed anche il Movimento 5 Stelle infatti non ne vogliono sapere di dare l'ok ad una nomina sentita come imposta dall'alto dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Questa è una responsabilità della maggioranza che fin dall'inizio ho pensato di poter fare tutto da sola. Nell'ultimo consiglio ci fu una proposta cosiddetta proposta del bastoncino da parte del presidente D'Alfonso. Ne abbiamo aperto perché riteniamo scandaloso il fatto che ancora non si riesca a dotare questa regione a un garante dei detenuti. Abbiamo chiesto soltanto di approfondire quale sarebbe questo meccanismo per arrivare a eleggere il garante. Però queste ultime due settimane sono passate inutilmente e nessuno si è fatto sentire. Il Consiglio Comunale di Chieti ieri ha votato il rendiconto di bilancio 2015, un'inversione di tendenza secondo l'assessore Luise, ma sui conti pesano il debito e i vincoli dettati dal patto di stabilità. Le criticità ai problemi finanziari al Comune di Chieti sono tutt'altro che risolti a causa della scarsa capacità di riscossione dell'ente e dei mancati trasferimenti statali. Ma nonostante tutto ci sono segnali di inversione di tendenza e commenti positivi da parte del primo cittadino in merito all'approvazione del rendiconto 2015. Abbiamo sentito in questi giorni le solite cassandre della sinistra che preannunciavano dissesti, sfaceli, anche non sapendo leggere evidentemente le carte. Perché se c'è un dato nuovo è la discontinuità rispetto a un trend negativo che vedeva i rendiconti del Comune approvati sì, ma sempre con un parere non favorevole da parte del Revisore dei Conti, per la prima volta dopo quattro anni il rendiconto del Comune arriva in Consiglio Comunale con un parere favorevole per quanto condizionato, ma ad una condizione che è stata peraltro risolta dall'amministrazione attraverso una revisione del credito vantato da Acca nei confronti del Comune. Non parlerò dei debiti che ho ereditato e ne sono per davvero tanti. Non voglio parlare neppure del riaccertamento dei residui fatti lo scorso anno che ci hanno portato ad avere circa 30 milioni di euro di disavanzo. Ma parlo dei 5 milioni e 3 di avanzo che si registrano sul rendiconto per competenza del 2015, che vuol dire che in un anno adottando politiche che sono state mirate al risparmio, al taglio della spesa e ad una oculata gestione delle poche risorse a disposizione, siamo stati in grado di mettere in sicurezza i conti del Comune. Adesso si apre una fase nuova, che è quella della predisposizione del bilancio di previsione, un bilancio di previsione che non può non tenere conto di quello che stiamo ancora vivendo. Perché se è vero che abbiamo approvato il bilancio in condizioni di parere favorevole da parte del Collegio di Revisione dei Conti, rendi conto. È altrettanto vero che abbiamo la necessità di continuare ad avere una politica molto ma molto ristretta sotto il profilo della spesa e soprattutto ad azionare nuove politiche delle entrate. All'Aquila, l'Udc, il partito del segretario Cesa si riorganizza in vista delle amministrative del maggio dell'anno prossimo. Il segretario comunale Buntempo dice non siamo morti ai microfoni di Daniele Rosone. L'Udc Aquilano si riorganizza in vista delle prossime amministrative del maggio 2017. Il partito del segretario nazionale Lorenzo Cesa, che in Consiglio Comunale ha come rappresentanza il consigliere Raffaele Daniele, ha l'obiettivo di creare un gruppo forte e coeso fatto da professionisti aquilani. Il segretario comunale è l'avvocato Luciano Buntempo. Per quanto concerne la riorganizzazione del nostro partito, diciamo che la mia espressione è stata una volontà di Lorenzo Cesa, con il quale ho avuto un colloquio e ho accettato perché ritengo che ormai non si debba più stare a guardare. Ognuno di noi deve contribuire seriamente allo sviluppo di questa città e abbiamo riorganizzato, stiamo riorganizzando un Udc nuovo. Non è vero dunque, non corrisponde quanto qualcuno sostiene, che l'Udc sta scomparendo e che assolutamente non è vero. Noi ci siamo riorganizzati, abbiamo costruito una squadra nuova fatta di soli professionisti e di persone che intendono portare avanti determinati progetti, ben più importanti, e quindi andiamo a recidere il rapporto con la vecchia politica. Questo è il senso. Probabilmente l'Udc non esprimerà un candidato sindaco per le prossime amministrative, ma creerà una lista di appoggio a uno dei candidati. Resta da vedere a quale e a quale schieramento, centro-destra o centro-sinistra. Passiamo alla cronaca, ispezione dei carabinili del NAS di Pescara e della ASL in uno dei grandi alberghi di Monte Silvano, dopo che alcuni clienti, ospiti in occasione di un convegno, hanno avvertito problemi gastrointestinali, tanto da dover richiedere l'intervento di personale sanitario sul posto. Immediato è scattato il controllo, con accertamenti nelle cucine, nei luoghi di preparazione di alimenti e bevande. Sono state riscontrate carenze igieniche, che saranno oggetto di sanzione amministrativa. La scorsa estate, in un altro hotel della zona, dopo che una trentina di persone non si erano sentite bene, NAS e ASL di Pescara, avevano disposto, in seguito a un'ispezione, la sospensione della cucina della struttura ricettiva. Pessima la qualità dell'area Monte Silvano in via Vestina, il neocomitato Vestina Pulità assieme a Lega Ambiente e WWF lanciano un appello agli organi competenti affinché vengano attuate tutte le azioni necessarie a ripristino dei valori entro i limiti di legge. Francesca Romana Tessi. Monte Silvano regina dell'inquinamento acustico e atmosferico, a dirlo i dati presentati da Lega Ambiente e WWF e il comitato costituitosi per l'occasione. Si tratta di un'area fortemente popolata di mezzi pesanti e l'allarme è concentrato sui danni verso i residenti. Se i dati dell'ARTA dicono che si superano i limiti, i limiti sono i limiti massimi tollerabili. Vuol dire che al di là di questi limiti, sia per l'inquinamento acustico sia per l'inquinamento atmosferico, ci possono essere danni per i cittadini. Ma a Monte Silvano si è stuperato veramente ogni limite ed è necessario, fondamentale, che a Monte Silvano non diventi la pattumiera dell'area metropolitana ma diventi un'area perfettamente integrata nell'area metropolitana nella quale i cittadini possono vivere bene in salute. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere un intervento immediato sia breve che a lungo termine che comprenda anche una riduzione dei flussi di veicoli che potrebbero compiere lo stesso tragitto utilizzando l'autostrada. Si sono certi dati veramente allarmanti. In alcune situazioni è andato addirittura a fondo scala il macchinario. Ma noi chiediamo il ripristino di questi dati alla normalità tramite, lo chiediamo alle istituzioni che possono fare qualcosa, quindi al comune, alla provincia, all'ANAS o alla regione. Noi questo non interessa. Abbiamo creato una raccolta firme, l'abbiamo creata da poco, ma andremo avanti anche con degli esposti che faremo nelle sedi competenti per cercare di far tornare la qualità dell'aria, del traffico e della vivibilità della zona a una situazione umana. E da domenica prossima, 3 luglio e per la quarta stagione consecutiva saranno garantiti collegamenti diretti giornalieri dal porto di Punta Penna di Vasto verso le isole Tremiti senza scalo intermedio a Termoli. Il servizio sarà gestito anche questa volta dalla compagnia Navigazione Libera del Golfo di Gaeta con la motonave Picasso. La partenza da Punta Penna alle 8.45 del mattino con arrivo previsto alle 10.30 e il ritorno dalle isole Tremiti con partenza alle 17.40, rientro in porto alle 19.30. È stata definita una scoperta epocale. L'Icranet di Pescara annuncia l'esistenza di 300 sorgenti di nuclei galattici attivi. Vediamo. L'Icranet di Pescara compie un'importante scoperta. Si tratta dell'organizzazione internazionale che nel corso dell'Adriatic Workshop vede in questi giorni ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo riuniti ad analizzare, confrontare e discutere studi e osservazioni su raggi gamma, processo teorico in astrofisica relativistica, di stelle e neutroni, buchi neri, supernove e ipernove, annunciando con grande soddisfazione i risultati di un giovane ricercatore brasiliano. La grande scoperta è che un giovane ricercatore di origine brasiliana che dirigerà il nostro centro dati che abbiamo qua a Pescara, ma che in fibra ottica si dirama dall'Armenia al Brasile e dirigerà questo centro, ha scoperto 300 nuove sorgenti di nuclei galattici attivi. Cosa sono? I nuclei galattici attivi sono degli enormi buchi neri di 100 milioni di masse solari che sono attivi. Ricercatori provenienti da Argentina, Cina, Spagna, Brasile, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Colombia, Armenia e Italia arrivano a Pescara dopo la tappa di Nizza, altra sede Icranet nel mondo, in un'iniziativa che ha interessato numerose università come Brema, Ferrara, Oldenburg, solo per citarne alcune. È una scoperta importante, nel senso che spiega parte della radiazione che era vista come diffusa, ma che adesso riusciamo a spiegare come sorgenti puntiformi. Quindi, in resumo, abbiamo trovato un modo di arricchire e spiegare meglio quello che osserviamo nel cielo, nella banda di radiazione gamma. E tra gli appuntamenti si svolgerà il 3 luglio al Teatro d'Annunzio di Pescara la serata finale della 43esima edizione del premio Flaiano fra i premiati Gabriele Garco, Alessio Boni, Licia Miglietta, Jonathan Coeppino Insegno e Marco D'Amore. Paolo Renzetti. Presidente Tiboni, 43esima edizione dei premi Flaiano, ancora un premio, un'edizione con grandi nomi. Grandi nomi che saranno a Pescara il 3 luglio e che contribuiscono ancora di più a rendere importante questo premio che già lo è e lo ha dimostrato in questi 43 anni. Tra i nomi internazionali di grande riedevo c'è lo scrittore Jonathan Coe, premio internazionale per la letteratura. Poi, per quanto riguarda la televisione, ci sarà Gabriele Garco che hanno appreso con soddisfazione ma anche con felicità di essere premiati perché il premio ormai si è inserito nel circuito della cinematografia per la sua importanza, per il suo rilievo. La cultura ha bisogno dei contributi anche che provengano dai privati e il pubblico e il privato devono convivere. La cultura è un elemento fondamentale nella vita di una società e diciamo che c'è bisogno di un nuovo mecenatismo, questo mecenatismo che dia respiro alle richieste di cultura che ci sono, che come ha anche sottolineato l'Unione Europea in quel nuovo progetto che si sta avarando per la cultura, debba contraddistinguere l'accesso alla cultura da parte di tutte le categorie, anche quelle più svantaggiate. Ed è stato inaugurato ieri sera a fregene presso lo storico villaggio dei pescatori, Largo Enio Flaiano, a fregene il grande scrittore e sceneggiatore pescarese ha vissuto e lavorato ad alcuni dei suoi capolavori, ricordo di Enio Flaiano, ha commentato l'assessore alla cultura, Arcangela Galluzzo, scomparso oltre 40 anni fa, ancora è vivo, si alimenta attraverso le sue preziose opere, fu un grande intellettuale che si occupò di cinema, teatro, prosa e giornalismo, una figura versatile, inconfondibile, unica nel panorama italiano del dopoguerra. E l'artista napoletano chiuderà la perdonanza celestiniana il 29 agosto, ma sarà anche testimonial dell'intero evento, eventi per tutta l'essate e a settembre la seconda edizione della Rassegna Jazz. Ad agosto allo Stadio Fattori, in scena anche il calcio con la Coppa della Pace. Il servizio. Massimo Ragneri, artista poliedrico napoletano, sarà l'ospite d'onore della perdonanza celestiniana, edizione numero 722. Massimo Ragneri terrà il concerto di chiusura il 29 agosto, ma sarà anche il testimonial di tutta la perdonanza celestiniana, come annunciato da Alfredo Moroni, vicepresidente del comitato organizzatore. Ricco il calendario di eventi che partiranno il 17 agosto per concludersi il 4 settembre con la seconda edizione della Rassegna Jazz che l'anno scorso portò all'Aquila oltre 600 artisti e 60.000 persone. Quest'anno il tema scelto sarà quello dell'amore per la natura e per l'ambiente con un collegamento forte tra San Pietro Celestino, il Papa del Rifiuto e San Francesco, il poverello d'Assisi. Assisi appunto ospiterà la bolla del perdono in una mostra documentaria aperta da luglio sino ad ottobre. La bolla tornerà ad ottobre all'Aquila e sarà restaurata. Il 4 ottobre ci sarà anche un convegno per parlare di Celestino V e San Francesco. Il comune ha messo in piedi anche diverse iniziative con il FAI come la marcia del creato che ci sarà il 20 agosto. Esistono poi alcuni altri elementi che riteniamo fondamentali per la costruzione di tutto il cartellone. Uno è il torneo della pace che dal 27 al 29 di agosto interesserà le squadre primavera di Juventus, Torino, Roma e Pescara. L'altro è un argomento di fondamentale importanza in questo momento e riteniamo di toccare che viene realizzato attraverso un monologo dello scrittore su un'opera di Antonio del Giudice che è quella relativa al dottor Nistico che in questi giorni è stato presentato in anteprima credo a Pescara. La Porta Santa di Colle Maggio anche se in fase di ristrutturazione sarà aperta e messa in sicurezza per consentire il passaggio dei pellegrini attraverso la porta. Ad aprire la Porta Santa il Cardinale Edoardo Menichelli giù arcivescovo di Chieti e segretario della Commissione Episcopale per la Famiglia dal 27 al 29 agosto inoltre prenderà il via la seconda edizione della Coppa della Pace che quest'anno vedrà sfidarsi le primavere di squadre come Juventus, Torino, Roma e Pescara e l'Aquila. Alla conferenza stampa erano presenti anche i componenti del comitato Don Carmelo Pagano Le Rose Don Vito Sacchi e la storica dell'arte Giovanna Di Matteo oltre al responsabile della scuola calcio dell'Aquila Calcio Maurizio Ianni che ha illustrato appunto il programma della Coppa della Pace torneo giovanile che si terrà ad agosto allo Stadio Fattori. Ed ancora il 2-3 luglio primo raduno del mare a Montesilvano un appuntamento imperdibile per gli amanti dei camion. Vessina News. Il prossimo 2-3 luglio a Montesilvano ci sarà il primo raduno del mare un raduno di camion nuovi e di uso comune che è organizzato da un grande team. Durante l'evento saranno presenti punti ristoro e manifestazioni in cui verranno presentati i nuovi camion del nuovo sponsor del grande sponsor Duraccio e uno stand di modellini dove si potranno comprare questi modellini parti di camion parti in acciaio inox e avremo show di ragazze le nostre ragazze immagini e grandi sponsor a livello italiano e non solo. Vi aspettiamo tutti al primo raduno del mare dove troverete questi camion e camion di nuova costruzione. Andiamo ora ad incontrare la star dei produttori Mario Duraccio con la sua ultima creazione. Vi aspettiamo con l'ultima mia creazione al raduno del mare una settimana per farlo in collaborazione con Mauro che mi ha dato lo spunto per fare questa nuova bellezza e con tante altre macchine che vi stupiremo. Ed ora la pagina sportiva ringrazio il Pescara per aver avuto fiducia in me ora spero di ripagare la stima del presidente Sebastiani e del tecnico Oddo. Queste le prime parole del neo biancazzurro Brian Cristante presentato ieri pomeriggio alla stampa e ai tifosi. Ascoltiamolo. E Brian Cristante il primo acquisto del Pescara ne ho promosso in Serie A il 21enne centrocampista a scuola Milan ma di proprietà del Benfica è arrivato questa mattina in città si è sottoposto alle rituali visite mediche e nel pomeriggio è stato presentato alla stampa emozionato ma convinto di poter dare il proprio contributo alla causa biancazzurra. Non è sempre la cosa più facile credere in un giovane devo ringraziarli insomma per aver creduto da me per aver creduto in me e adesso sta solamente a me come ho già detto di dimostrare le mie qualità e il mio valore adesso il mio obiettivo è venire qui e giocare il più possibile e far vedere quello che valga. Cosa sai del Pescara e di Pescara? So che mi hanno parlato tutti benissimo hanno parlato tutti che è una città di cui ti innamori che tanti alla fine dell'esperienza a Pescara decidono di restare qui adesso spero di godermela nel migliore dei modi. Può essere questa la stagione per il definitivo salto in avanti per te? Sì sicuramente devo trovare spazio giocare pescare una piazza insomma l'ha già fatto vedere che può far esplodere dei giocatori giovani come me. Milan e Benfica due squadre nate per di solito giocare e vincere i campionati arrivi in una squadra che in Serie A dovrà lottare per salvarsi? Sì metteremo tutto tutti anche io particolarmente tutto me stesso insomma è quello insomma che ho bisogno di trovare una squadra dove deve trovare minuti e fiducia Un saluto a tutti i tifosi del Pescara che cosa ti vuoi un saluto a tutti i tifosi e prometto insomma il 100% dell'impegno e la massima professionalità Cioè ti hai già scelto il numero di maglia così giusto una curiosità no? Eh no se c'è il 24 non so se non c'è disponibile o no Come vuoi essere arrivato al 24? Per Kobe Bryant insomma mi piace il basket mi piace l'NBA era il mio giocatore preferito Andiamo in Lega Pro Teramo molto attivo sul mercato dopo Altobelli e Cacali si è fatta anche per il centrocampista Davide Peterman l'anno scorso al Sant'Arcangelo davanti si aspetta una risposta da Marco Sanzovini intanto in casa Virtus Lanciano Padova e Alessandria sono interessate al difensore Michele Rigione Jacopo Forcella Dopo l'ufficialità di Mattia Altobelli in casa Teramo si attende l'arrivo di un altro prospetto di scuola pescara Francesco Carcalis il difensore ex L'Aquila e Maceratese dovrebbe prolungare il suo contratto col Delfino prima di dire sì al prestito con i Biancorossi raggiungendo così il suo compagno di squadra definito l'acquisto anche del centrocampista Davide Peterman anche lui l'hanno passato al Sant'Arcangelo e che per posizione dovrebbe prendere il posto in mezzo al terreno di gioco di Stefano Madio che è ancora sotto i riflettori della Latina ma con i nero azzurri di Vivarini che ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale il sogno davanti è Marco Sansovini il centravanti è davanti ad una scelta di vita o sceglie di rimanere al nord e accetta le lusinghe del Mantua oppure decide di rimanere a questo punto definitivamente in Abruzzo e a quel punto Teramo sarebbe una soluzione gradita al giocatore che a 36 anni potrebbe ancora dare molto al reparto avanzato dei Biancorossi in un campionato quello di Lega Pro nel quale ha dimostrato di essere ancora decisivo a Cremona in 14 presenze è andato a segno sei volte e sarebbe il partner ideale per Antonio Croce Sansovini non escluderebbe Marco Guidone anche se Lupo valuterà anche le possibili alternative e nel caso una delle due o tutte e due le piste non dovessero concretizzarsi questione portiere nelle prossime ore la società incontrerà Alessandro Tonti per verificare la sua disponibilità a rimanere e a quali condizioni intanto si lavora su altri profili uno è Riccardo Melgrati 22enne del Cesena in prestito alla Provercelli quest'anno in campo in quattro circostanze altro osservato speciale è Matteo Brunelli in prestito dal Chievo Alpisa appena promosso in Serie B e assistito da Donato Di Campli in casa Lanciano invece ancora poche operazioni Rigione dovrebbe salutare i rossoneri ci sono Padova e Alessandria sul difensore centrale mentre il giovane Edoardo Tassi dopo l'esperienza al Torino dovrebbe rientrare alla casa madre Frentana in entrata piace come il bomber dell'Avezzano Lorenzo Di Curzio che si è messo in evidenza in questa stagione a suon di reti che gli sono valse anche la convocazione nella rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio Lasciamo il calcio con la vittoria sulla Florenzia la pallanuoto femminile Pescara raggiunge un traguardo storico la promozione in Serie A1 un risultato storico merito anche del lavoro del tecnico Tommaso Cianfrone con l'allenatore del Pescara pallanuoto Tommaso Cianfrone per festeggiare un momento storico dello sport pescarese abruzzese la promozione del Pescara in Serie A1 femminile di pallanuoto nella gara decisiva al Palla Pallanuoto le pescaresi hanno battuto con il punteggio di 5 a 4 la quotata Florenzia con i seguenti parziali 1 a 1 1 a 0 1-2 2-1 una vittoria meritata per come le ragazze hanno saputo tenere la concentrazione fino alla fine in gol sono andate Apilongo Vidonis e Invernizi una volta e doppietta di Claudio allora Tommaso Cianfrone è una gioia indescrivibile sì è veramente una gioia indescrivibile anche per come è arrivata soprattutto in questa gara 2 dove abbiamo sofferto veramente quindi onore anche alla Florenzia che ci ha tenuto fino alla fine fino a un minuto alla fine in punteggio di parità le ragazze sono state bravissime hanno interpretato al meglio la partita sono state lucide calme anche in situazioni un po' più difficili alla fine ce l'abbiamo fatta per te questa la prima vera panchina da prima squadra no? è una prima panchina promozione in a 1 non me l'aspettavo sinceramente la squadra era abbastanza forte già dall'inizio però dovevamo mantenere una lucida tale che ci permetteva poi di affrontare queste partite per me sì è una grande gioia soprattutto per la società Pescara Pallannuoto che ha creduto in me e ce l'abbiamo fatta e dopo la promozione in a 1 delle ragazze dell'Original Marines alle piscine Elenaia di Di Pescara gli occhi restano puntati sulla grande Pallannuoto giovedì 30 giugno infatti inizia il raduno della nazionale maschile il Settebello dopo aver concluso al quarto posto la Super Final della World League riprende da Pescara la preparazione per le Olimpiadi di Rio de Janeiro il primo allenamento pescarese è previsto per il pomeriggio del 30 giugno quando i ragazzi di Campagna effettueranno una seduta in acqua dalle 19 alle 21 per Pescara il CT Campagna ha convocato l'intera squadra e ha disputato la World League la squadra oltre che dal commissario tecnico sarà sempre accompagnata dall'assistente tecnico Amedeo Pomilio dal team manager Alessandro Duspiva dal presidente dal preparatore atletico Alessandro Amato ed è tutto per questa prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento Amedeo Pomilio